Da pochi minuti è terminato l'incontro tra Frosino e Monopoli, intanto diamo il benvenuto a Marino Bifulco come nuovo partiere del Monopoli, classe 1982, sei di Pescara, provini dal Matera, vieni a dare il tuo tasso di esperienza a questa squadra. Sì, sono contento di essere approdato nella vostra città, che comunque è una città bellissima, ho avuto il piacere di vederla quando sono venuto a parlare con la società e faccio i complimenti a tutti i monopolitani, si dice così, per la loro splendida città. Poi sono contento di vestire questa maglia perché è comunque una piazza che mi è sempre piaciuta, vedendola dal di fuori, un pubblico molto caloroso e niente. Cercherò di dare il mio contributo alla squadra e mettere a loro servizio i miei anni. Ti faccio giusto un paio di domande in rapida successione, la prima riguardo la partita di oggi, come hai visto i tuoi compagni? No, ho visto già la prima uscita che hanno fatto, che era appena arrivato, ho visto un'importante crescita sia a livello di gioco che a livello di atleticità. Ci abbiamo ancora molta strada da fare, comunque è calcio di luglio. Non siamo ancora arrivati nemmeno a quello di agosto. Sì, quindi comunque è stata una buona prova da parte dei ragazzi, però lasciare il tempo che trova perché comunque dobbiamo pensare a migliorare giorno dopo giorno e superare i nostri limiti. Io, quando si parlava del tuo acquisto, ho pensato a Monopoli-Pescina del 2008-2009, una delle partite più belle alla quale Abbe ha assistito. Finì 3-2 per il Pescina, doppio vantaggio, doppiette di Zarinè, poi pareggio doppiette di Ballistri e poi ci fu il gol allo scadere. Sono passati un po' di anni. Sì, sono passati 9 anni per l'esattezza. Ero già stato l'anno precedente a giocare contro, però sempre con il Pescina, però non è stata una partita così scoppiettante. No, no, io mi ricordo fu 0-0 all'andata. No, quella è stata un'ottima partita, tra l'altro la ricordo con molto piacere perché è stato il mio primo rigore parato da professionista. A Ballistri? A Ballistri, sì. O Ceccarelli, non mi ricordo. No, a Ballistri perché poi fece la doppietta. Sì, quindi comunque è una partita che ricordo con molta felicità. Speriamo che di rigori ne parerai qualcuno. Speriamo che sia di buon auspicio. Va bene, intanto benvenuto e grazie. Grazie a voi, buonasera.